Quanti giorni hai lavorato quest'estate? Sono arrivato a lavorare solo due settimane, così. Due settimane in tre mesi? In tre mesi, hai visto? Anche tanto non hanno lavorato. Quando si trova al lavoro poi c'è il contratto oppure a volte non lo fanno? Contratto, per noi io penso che è un contratto falso, perché senza busta paga. Non c'è scelta, bisogna trovare un lavoro per sopravvivere. Penso che proprio la mia integrazione in Italia non è più possibile con due mesi di lavoro. Come fa tutto per prendere una casa normale? I cercatori di briciole della raccolta della frutta sono i più deboli. Vivono letteralmente alla giornata nella tendopoli del foro Boario di Saluzzo, la casa degli stranieri senza un contratto stabile. Arrivano in Piemonte a maggio, solo in pochi riescono a lavorare davvero. Meno della metà delle persone che sono sul territorio trovano effettivamente lavoro per un periodo accettabile. Chi non lo trova che cosa fa? Aspetta. C'è chi ha lavorato uno o due giorni, si parla di settimane o due o tre settimane al massimo e quelli che hanno lavorato per mesi interi sono molto pochi. Speranze in viaggio seguendo le stagioni della frutta, le pesche d'estate, le mele a settembre. Adesso le ultime due settimane per i kiwi, cercando un lavoro che spesso non c'è. Asanna è uno di quelli che ce l'ha fatta. Ci mostra il suo alloggio nel campo gestito dalla Coldiretti. Sotto contratto con uno stipendio stagionale, tutto in regola per 250 lavoratori. Il ricordo degli inizi in una bicicletta. Deve andare in giro, tutto in giro, quello chiede, chiede sempre. Comunque non è facile ma ci vuole un po' coraggio. C'è gente che continua a cercare lavoro fino alla fine. Tra pochi giorni Asanna raggiungerà il fratello a Padova. Forse quest'anno riuscirà a tornare in Burkina Faso a trovare la famiglia dopo otto anni. Se no farà come l'anno scorso, in viaggio sulle rotte della frutta, gli agrumi della Sicilia e della Calabria per esempio. Sarà un'altra corsa, altre pedalate, un'altra lotteria. Mi piace se io trovo lavoro fisso. Ma se non c'è lavoro fisso questo lavoro, per me va bene. Va bene fare questo lavoro. Medio di niente.